Nessun ritardo nei soccorsi all'atleta colpito da infarto ieri a Bari durante Vivi Città. Ne parliamo in studio con il responsabile sanitario della corsa. Torniamo a parlare della Vivi Città, la gara podistica che si è svolta ieri a Bari e che è stata turbata dal caso del corridore cinquantenne che è stato colpito da infarto poco dopo la partenza. Buongiorno al dottor Antonio Tota della cardiologia ospedaliera del Policlinico di Bari e responsabile del servizio medico che ha seguito la manifestazione. Abbiamo letto polemiche sui primi soccorsi, presunti ritardi e inefficienze a partire dall'uso del defibrillatore. Come è andata veramente? Buonasera a tutti, grazie per la possibilità che ci date per poter dimostrare quanto è stato fatto. Partiamo con dei numeri chiari. La manifestazione è iniziata alle 10.30, la chiamata di soccorso da parte dei vigili urbani alla nostra ambulanza è arrivata alle 10.35, il runner era al Policlinico in accettazione alle 11.14, stiamo parlando di 39 minuti. Sono dei tempi non rapidi, rapidissimi, tra la richiesta e l'arrivo al pronto soccorso. Come sta adesso il paziente? Adesso è ancora in prognosi riservata, ma lasciatemi dire, c'è un cauto ottimismo in questo senso. Ecco, al di là del caso specifico e poi anche al di là dell'eventualità che è sempre dietro l'angolo, abbiamo visto il caso Astori, spesso anche i campioni incappano in gravi episodi che possono portare pure alla morte. Come si può prevenire e a che punto siamo con la certificazione sportiva? Allora, noi abbiamo un modello, il modello italiano di prevenzione cardiovascolare, che è basato appunto sulla medicina dello sport. È un modello di prevenzione che è invidiato a livello internazionale e sicuramente rappresenta un modello per cercare di intercettare la maggior parte delle problematiche prevalentemente cardiologiche. Questo per i professionisti, per i dilettanti? Spesso la certificazione sportiva non è fatta in maniera così troppo leggera? Per i dilettanti invece la normativa è lasciata appunto al libero arbitrio. Chiunque può andare dal medico curante e farsi rilasciare un certificato di sana e robusta costituzione. Per gli agonisti invece abbiamo dei protocolli che sono più rigidi e che prevedono una serie di esami prima di poter effettuare la partecipazione alle gare. E non era questo il caso ieri perché il corridore era un corridore professionista? Agonista con un certificato ben preciso. Mi permetta soltanto di ricordare una cosa, che nel momento in cui è stata avviata la chiamata, dopo tre minuti l'ambulanza era sul posto e sono state applicate le piastre del defibrillatore sul torace. è stato intervento tempestivo con l'utilizzo di tutti i presidi. E su questo è importante considerare che senza quel presidio non ci sarebbe stata la possibilità di portare al policlinico ancora con il ritmo suo del paziente per poter effettuare poi quello che è stato l'intervento. L'intervento che probabilmente gli salverà la vita. Grazie al dottor Tota del Policlinico di Bari.